Ehi! Ciao! Oggi, in questo video, ti mostrerò i triggers ASMR che io personalmente non sopporto. E allora, se sei curioso o curiosa, rimani fino alla fine. Intanto, io vi auguro un caldissimo benvenuto sul mio canale di ASMR Therapy. Nel caso in cui tu non l'abbia ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video. E alla fine, se il video è stato di tuo gradimento, di lasciare magari un like. Allora, partiamo con il primo, primissimo trigger che io letteralmente non sopporto. Anzi, facciamo un gioco. Partiamo dall'ultimo. E il primo ve lo lascerò più avanti. Dunque, fatemi pensare, ok? L'ultimo trigger della serie dei triggers che io, e ribadisco, personalmente non sopporto, è il seguente. Perché ribadisco personalmente? Perché, ovviamente, è una questione molto soggettiva. E se a me non piacciono, non è detto che non debbano piacere anche a voi. Io magari cercherò di illustrarvi il perché ogni trigger non mi piace. Il che, ovviamente, come dicevo prima, non deve influenzare i vostri gusti, oppure non deve farvi sentire giudicati. Assolutamente no. Ok? Quindi partiamo dall'ultima posizione di questa lunga lista. Ok, è veramente pesantissimo. È un pc vecchio, ma pensavo sarebbe stato un po' più leggero da tenere. Siccome l'altro pc, quello che utilizzo, normalmente è occupato a registrare l'audio in questo momento. Questo è il pc alternativo. Dunque, speriamo che non collassi. Il trigger che io odio è il seguente. Il trigger che io odio è l'audio in questo momento. Ok. 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 Come dicevo prima, adesso vi spiego perché questo trigger non mi piace. Quindi sarebbe il suono della tastiera. Ok. Ok. Mettiamolo via che è pesantissimo. Ok. Dunque, non è il suono in sé che non mi piace, ma è il fatto che il suono della tastiera mi richiama all'attenzione e mi metto in una modalità di concentrazione e in una modalità lavorativa. Perché? Perché io faccio un lavoro in cui praticamente il 95% del mio tempo lavorativo, quindi nel totale dell'autore, passo a scrivere. e quindi questo suono non potrà mai rilassarmi, ovvero invitarmi a dormire serenamente perché mi fa ritornare in mente il lavoro. E quindi, ecco, questa è la spiegazione perché il suono della tastiera non è che non mi piace, non mi dà neanche fastidio, però in realtà non mi rilassa, proprio niente, zero, zero. E quindi, se posso, lo evito volentieri. Ok. Passiamo al prossimo trigger. Il trigger è un trigger che, secondo me, piace alla maggioranza delle persone, ma io ho già avuto una negazione nei suoi confronti ancora da quando ero piccolina. Ma, ovviamente, a quel tempo non lo chiamavo trigger, ma era il rumore, il suono che emetteva, che mi dava fastidio. e quindi, questo suono non mi rilassa, non mi fa concentrare, ma letteralmente mi irrita quasi, mi fa venire i prividi quelli brutti, 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 brutti. che trigger è? Allora, no, non è il suono delle pagine che vengono sfogliate perché in realtà questo è il suono che io adoro veramente tanto ma è il seguente ok, è praticamente il suono che viene immesso, che si viene a creare quando sul foglio di carta si scrive con il penarello proviamo in un altro ok, me ne faccio sentire con un altro paio bellissimo scrabocchio ok, e adesso la parte finale la più brutta 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 in assoluto non so se siete pronti ma non so se sono pronta nemmeno io non so se siete pronti ma non so se siete pronti ma non so se sei ok, io direi basta con questa tortura questo qui è anzi quasi consumato quindi per questo il suono viene intensificato a mille infatti non scrive niente però magari ci sono persone e credo che ci siano alle quali questo suono piace o rilassa ok, noi intanto passiamo al prossimo dunque ho una tipologia di rifiuto per le superfici metalliche e allora vi spiego questo tipo di suono non mi da alcun fastidio anzi è piacevole poi c'è questa tipologia di suono poi c'è questa tipologia di suono però c'è un altro modo in cui si può utilizzare la superficie metallica ed è il seguente che io letteralmente odio odio non 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 Grazie a tutti. Ok, devo dire che mi fa quasi venire la nausea. Ok, intensifichiamo la tortura. Un altro suono, cioè lo stesso ma simile, che odio, 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 è questo. Ok, che in realtà potrebbe anche associare a una sorta di vento. No, non si avvicina neanche. Però, non so, ha un chiede vento, no? Dai, facciamo un altro po' di tortura. No. 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 E quindi adesso siamo a tre, ce ne sarebbero altri tre ancora più strani. Ma ditemi voi nei commenti se questa tipologia di video vi è piaciuta così magari condividerò il prossimo che quindi sarebbe la parte 2 con altri tre triggers sicuri che proprio odio e che non mi piacciono. Per niente, grazie e buonanotte.